Nel quadro delle amichevoli, premondiale l'Italia apre la stagione del nuovo stadio della Via del Mare a Lecce, di fronte la Norvegia. Altobelli apre il punteggio, ma la Norvegia inaspettatamente capovolge il risultato con Larsen Hochland e con Davidsen, andando a vincere per 2 a 1. Incredibile! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS